Amici buona giornata, oggi mi trovo incatenato come vedete qui a Cilio Vecchia Morte sull'autostrada perché per il semplice fatto che sono scortizzato da una persona che ha potere che questa persona mi rende la vita veramente impossibile, io non so più cosa fare e questo è un gesto non di disperazione ma di protesta e di disprezzo verso quelle istituzioni che non sono riuscite fino adesso a cercare di darmi una situazione. Poi vi racconterò tutta, un giorno vi racconterò tutta la storia. Di nuovo amici buona giornata a tutti dal vostro caro Sensitivo Alotti di Civita Vecchia.